le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 31 luglio ariete cercate di pensare anche alla forma fisica marte in questa posizione vi rende più vulnerabili e di conseguenza esposti a qualche malanno toro la fortuna è tutta dalla vostra parte sfruttate le prossime settimane al massimo sia per proporvi sul posto di lavoro sia per coronare un sogno d'amore gemelli non fatevi prendere dai pensieri negativi anche se qualche conto vi torna in un rapporto di coppia sarà meglio non prendere iniziative sconsiderate cancro le amicizie in questo momento possono rivelarsi molto importanti avete appoggi anche in alto o loco in amore ora potete superare qualsiasi problema leone l'umore non sarà dei migliori a causa della luna difficile in casa ci può essere qualche imprevisto che vi costringerà a perdere parecchio tempo virgine c'è marte nel vostro segno a rendere ancora più incandescente l'atmosfera in amore ora potete davvero ottenere tutto quello che avete sempre sognato bilancia venere alle vostre spalle appesantisce un cielo già molto impegnativo le difficoltà non mancheranno ma ci sono anche delle grandi opportunità scorpione l'entusiasmo che state ritrovando sarà indispensabile per prendere delle decisioni molto delicate sia sul lavoro che nella vita di coppia sagittario i rapporti sentimentali si complicano parecchio anche a causa della vostra sfrenata ambizione in questo momento l'erba del vicino vi sembra sempre più verde capricorno l'amore può raggiungervi ovunque e assumere forme che non avreste mai immaginato un viaggio è caldeggiato dalle stelle non vi resta che partire acquario non vi sentite in perfetta forma anche se sul lavoro continuano a susseguirsi i successi la vostra staticità può però infastidire qualcuno serata noiosa pesci la luna vi regala l'appoggio degli amici una parola di conforto può essere la medicina migliore in certi casi l'amore appare un po' superficiale e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus grazie a tutti